Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico Anche questa puntatona dal colore scrittura creativa La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza Philip K. Dick, Null O, Wars of 1558 Fabola, è una fabola New Age in cui Dick mescola il problema dei figli paranoici con la paura della guerra atomica tra URSS contro USA Dick richiene tutti gli scienziati che decidono di collaborare alla costruzione di bombe a fissione nucleare o la fusione nucleare quindi la bomba a termo nucleare eccetera ecco, è quindi tutti gli scienziati che collaborano attivamente alla corsa agli armamenti e non era fredda come delle persone paranoiche è una fabola semplice e lineare si potrebbe definire il preacue di discesa Dershank di Matheson su Wars of 1554 narratore esterno non onnisciente e invisibile e focalizzabile sui personaggi che muta il narratore onnisciente nella seconda parte del racconto per poi ritornare narratore esterno non onnisciente e invisibile che è stato interessante perché Dick introduce ed usa il narratore efficiente Format è un racconto di fantascienza non troppo lungo interamente centrato sulla tecnologia del 1950 come modifica e miglioramento delle V1 e V2 naziste accoppiate alla bomba atomica per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima